Penso che questo sarà l'episodio di nascondino più estremo che abbiamo mai fatto Fere, te lo dico proprio subito sereno sereno Allora, siamo in una cameretta gigante ma questo mi sa che l'avete già capito Abbiamo la mod che ci permette di diventare minuscoli e ci dovremo nascondere da minuscoli in una stanza gigante Quindi già siamo piccoli così, con la statura normale, figurati se diventiamo ancora più piccini Stef, cioè, assurdo, non ci troveremo mai È stata interessante e difficilissima, infatti guarda Fere, penso che il tour sarà un round a testa e chi trova l'altro più in fretta vince Esatto, però Stef, abbiamo una piccola novità, perché questa volta abbiamo due capsule che ci permettono anche di diventare più grandi Ma che dici Fere? Ecco qua, ecco qua, era proprio quello che volevo dire Ma, Stef, prendi lo stesso danno anche se sei gigante Ah, ecco perché Mi posso buttare? No, no, non potevi, no, perché così sarà più semplice nasconderti e raggiungere certi punti della casa Perché deve iniziare sempre con io che faccio una figuraccia, di qualsiasi tipo? Ah beh, Stef, siamo abituati, cioè, se non inizia così il video dicono, oh mio Dio, cos'è successo a Stef? Aspetta Fere, no! Ecco qua, ecco qua, Consolini, oggi iniziamo tra 15 minuti Ci sono Mi raccomando, ok No, ero confuso, ok? Ero confuso Allora, scendiamo Stef, seguiamo le rotaglie e scendiamo Che vuoi fare? Ah, ti vuoi buttare Ebbene, c'è questo fatto apposta, è chiaro come il sole, no? Hai ragione Ok Stavo per non bene Allora Allora, vai a nasconderti Mi nascondo prima io? Sì, mi metto qui dietro, dai Ok Allora, sfrutto questa gandrezza per potermi muovere abbastanza in fretta in giro e soprattutto potermi anche arrampicare Ok E vediamo un pochettino dove mi potrei nascondere Ah, guarda, c'è l'imbarazzo della scelta in questa mappa, Stef Lo so, cara Puoi scegliere assolutamente qualsiasi posto Lo so, ma sai una cosa? Non ti deve interessare Stef si nasconderà do Dove? Come voglio Oggi a Stef piace volare Non posso fare i salti, capisci? Che ti devo dire? Tu ti vedi bello grande, diciamo Posso andare ovunque e invece no Fai attenzione, ricordati che prendi danno Questa comunque non mi piace come cosa Dovevano sistemarla Perché non ci pensi Vabbè, dai, pazienza, pazienza Adesso mi tocca fare il parkour per andare dove volevo Perché praticamente esaurisci pure Capito? Eh, sono a consumo, certo, no? Eh sì, però consuma velocissimo quello Davvero? Li ho già finiti Ma no Sì Ma davvero? Sì Cioè, quelli piccoli li usiamo un sacco di volte Lo so, lo so, hanno un sacco di utilizzi Invece quello gigante, forse perché è fortissimo Hanno molti pochi utilizzi Sai che faccio? Mmh Ne preparo altri Ok, va bene, va bene Facciamo una ceste qua Perché se no qui è un delirio muoversi in questa stanza Ok, raga, io spero che Fede non capisca ciò che sto facendo Eh, la metto qui davanti la ceste, Stef Perché non mi posso girare troppo Quindi accontentati Ok A questo punto io vado tipo qua Ok, io sono praticamente fatto E quindi tu puoi pressoché partire Sì, un attimo Stavo preparando Metto solo quelle grandi tanto, vero? Le due grandi Sì Sì, dai, sì, sì Ok Dammi un secondino Vai, vai, fai pure, fai pure Ok Ok Devo rimettermi in survival perché giustamente me la sono data quella creative Ok, posso andare? Mmh Sì Sì Aspetta Dai Vai, 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 vai pure Ok Ok Non so come muovermi Se muovermi Anzi Muoviamoci da un po' più grande Esatto Leggermente più grande Non il massimo Ricordati di non saltare Ok Ok, è molto pericoloso saltare Ho fatto l'otto Ok Ma fai quello che vuoi fare Io qua ho avviato il timer Sono stato sufficientemente cattivo Quanto abbiamo? Sempre due minuti? No, non hai due minuti Ma sei pazza Con due minuti neanche vedi Non lo so Non lo so Tu puoi anche andarci lì Però poi hai difficoltà È già in difficoltà a fare Il tempo passa Il tempo passa È già preso danno? Solo con un saltino perdo tipo quattro cuoricini Ce l'ho detto È assurdo Qui È un potere davvero pericoloso Mi sembravi un pipistrello Cosa? Mi sembravi un pipistrello No, però non assomiglia a pipistrello Mi dispiace Però la torno normale Perché è davvero complicato muoversi così Perché voglio guardare sotto Ok, ma io credo Fede che qua resterò fermo all'infinito Lo sai Due minuti Sono passati in questo esatto istante Quindi ti do il mio primo indizio Ok, vai Ok Sono dentro qualcosa Ok Ok Che non è un mobile Ok Non propriamente Quindi puoi escludere scrivanie, librerie, letti Ok Sono dentro qualcos'altro Qualcosa che comunque fa parte dell'arredamento della stanza Ma che non consideri un mobile Ma dentro il cassetto Che io non riesco a vedere lì dentro Ma il cassetto è un mobile Il ferro non ha capito l'indizio, raga Vabbè Io l'ho spiegato a sufficienza Poi Quello che lei capisce, capisce È dentro un computer Tra altri 30 secondi avrà il prossimo indizio Fino a che finalmente non ci troverà Ma la ringrazieremo addirittura per averci trovato Ma non posso guardare in alto È quello il problema Eh, lo so, cara Lo so, lo so È quello il difficile Accidenti, come faccio? Mancano 15 secondi Al prossimo indizio E sarà già abbastanza importante Il terzo indizio sarà quasi fondamentale Attenzione Ferre è diventata abnorme Vado Uh Ok Ok, Ferre è quasi morta No, 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 no Ferre, ti puoi settare uno spawn in modo tale che se morire Non ti teleporti su di me? No, io L'unico con salinzucca qua Mi sta facendo perdere tempo Ok, allora Siamo a 3 minuti e 10 Quindi ti posso dare il successivo indizio Ok Sono nascosto dentro E ripeto, dentro Qualcosa di bianco Che appunto non è un mobile È bianco Secondo me è qui dentro Non è un mobile Non è un mobile questo È un contenitore di documenti Ok Vai a controllare i documenti No, no, quindi No, ok È piano Il cestino Il cestino è già più sensato Non è un mobile È bianco Potrei essere lì dentro È più grigio che bianco È più grigio che bianco, signori Quindi non era neanche quello Guarda intorno Cosa c'è di bianco Il cestino E provo a pensare un pochettino Il cestino Il cuscino Il cuscino Il cuscino, signori Attenzione No, non sei nel cuscino Stef, è troppo difficile Non mi posso muovere poi Beh, ti sto dando degli indizi incredibili Ok, allora Questo è l'indizio forte Ed è anche il mio Fermo sifone Ultimo indizio È tipo qui dentro Sono in una cosa bianca Che non è un mobile E che scalda le persone È il termosifone Ma anche se me lo dici, Stef Non ti vedo Eh, diventa piccola Allora, aspetta Torno normale Ok Adesso schiatta, raga Ok Ma ti sei messo tipo con un blocco Con un blocco? Con qualche blocco dentro uno di questi buchi Buona teoria Beh, mi devi vedere, Fer Ti ho dato tutti gli indizi che vuoi Adesso mi devi trovare Ti avviso che sei quasi a cinque minuti È ovvio Eh, lo so Ma non so dove ti sei ficcato, Stef Cioè, è impossibile da capire Basta guardare bene i buchi E noterai che C'è qualcosa Ma basta, raga La sto aiutando tantissimo Ha rotto le scatole questa qua Stef, li sto guardando tutti E continuano a vederti C'è un buco dove c'è una differenza Rispetto a tutti gli altri buchi Prima o poi lo troverò Che dici? Eh, prima o poi Per forza di cose Dai E lei è anche già guardato, eh Bene Allora, hanno tutti questo pavimento Quindi ce n'era uno Questo Che cosa? Tu devi essere per forza in questo Perché? Perché è diverso Li hai controllati tutti? No, sono tutti uguali Eh, ma Fere Ma che problemi hai? No, Stef, non ti provo Non so che dirti Cioè, li ho controllati tutti Guarda, ho quasi finito A me non sembra Li ho controllati tutti Mi avresti visto? Stef, è impossibile vederti È impossibile Qua, forse Noto qualcosa di strano Sei qua? Sì, sì È grande Brava Ma tu come sei finito Lì dentro? Uh, bravissima Ho bucato E sono andato dentro Aia Ho preso dell'arte Io come scendo ora? Non lo so Questo non mi interessa Ti puoi teleportare Su di me se vuoi Ok, allora Vado a mettermi da qualche parte E Fere inizia a rascondersi Ti informo che ci hai messo 5 minuti e 45 secondi Che vergogna Ma secondo me Non è neanche malaccio C'è da dire che i miei indizi Erano ottimi I miei indizi erano davvero ottimi Quindi gradirei Degli indizi altrettanto buoni No Ok E dove hai messo I vari cosi Lì dove mi stavo Dove ero girata Prima di Ok, ho visto Ok, vai vai Inizia a dare Dove vado a prenderli Gli ho consumati anch'io, Stef Inizia ad andare Dai, Stef, zitto Allora uno E allora 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 Io me ne prendo Due per diventare da otto Che mi è sembrato il più comodo E uno soltanto Anche secondo me Per diventare sedici Tu è il migliore Quindi me lo metto qua Poi Questo da uno e mezzo Ragazzi, secondo me È abbastanza inutile Quindi faccio così E dovrei essere a posto Ok, Fere Hai iniziato ad andare a nasconderti? Sì Ti scongiuro di non metterci un'eternità Anche a nasconderti Dopo avermi trovato Perché qua i consolini Altrimenti un nascondino del genere Così estremo Non gli piacerà Te lo dico Per colpa di Fere Perché Stef è abbastanza bravo Da sopportarla Adesso lo dimostrerà Battendo Fere E ne mentre bevo Smettila Perché stai bevendo? Ho sette Ho notato Hai fatto? No Perché non riesco a entrare Dove voglio però? Non lo sappiamo Forse perché sei Fere? È probabile Dai, ho visto un posto Sto solo morendo Cercando di entrarci Ho visto un posto Che mi piace Si chiama Nascondiglio Ascolta Facciamo una cosa Io buco E ritappo Perché dobbiamo sopportarla così? L'importante è che ci sia almeno un punto Dove tu sei visibile No, non sarò mai visibile Cioè se sei totalmente dentro un mobile Tutto al chiuso Non c'è un singolo punto Da cui ti posso vedere Non vale No, non è tutto al chiuso Non rompere Ok, posso partire? Aspetta, mi devo trasformare in mini Puoi anche farlo mentre arrivo Mica ti trovo Devo pensare bene Raga Qui dietro vai Non rompere Tu ci hai messo una vita Non è vero Ok, allora Diventiamo Enormi Fatto E ho preso danno Allora Quanto avrà puntato in alto La nostra cara Fere Quanto avrà puntato Non lo so Steph Magari ho raggiunto I posti più alti Magari sì Chissà dove sei Magari no Vediamo dove stai controllando Magari guarda Guarda che bella quella mensola Lì in alto Con le macchinine Eh sì Potrei essere lì Sì è davvero bella Fere Potrei essere lì Grazie per avermi la fatta vedere Cioè Apprezzo davvero tanto Il fatto che tu mi abbia fatto notare Una mensola così bella Guarda come prende danno Poverino Sì guarda che precisione Guarda che stai facendo E beh almeno così Per cercare di salire Riesco ad andare nei posti Allora Adesso così non dovrei cadere Perfetto Chissà dove sarà Fere Chissà Eh io Ho questo presentimento Io ovviamente sono ferma Dai raga Sto prendendo E vedi che Aia È assurdo Fere Steph Mi dispiace Che tu ti faccia male Perché Io aspetto Io aspetto Che Steph arrivi Ma qui Non arriva chiaramente nessuno Nessuno mi troverà mai Rimarrò sempre qua Nascosta Ma che fai Steph Guarda che è tutto È tutto lana Quel libro Lasciami in pace Faccio i tentativi Che preferisco Ok Va bene Va bene Allora Adesso iniziamo Piano piano a scendere Siamo a due minuti Vi devi dare il primo indizio Cara Sono dentro un posto Io sono stato più gentile Ho detto Dentro un posto Che non è un mobile Il mio era un indizio migliore Del tuo Pareggia Dentro un posto Che non è un mobile Fere Non è un mobile Che ti devo dire Ok Guarda se ti trovo Mamma mia Se ti trovo Ok Piano piano Noi scendiamo Piano piano Noi scendiamo Piano piano Noi scendiamo E Fere Troviamo Mi addormento Steph qui Sì sì Mi viene sonno Va bene Va bene Fai la simpatica Fai la simpatica Poi quando ti trovo Piangi Io guardo Sì sì Siamo praticamente Tre minuti Quindi fra poco Devi dare il prossimo indizio Cara Ok Teniti pronta Puoi iniziare anche A dirlo Non so più che dire Beh devi dire Il secondo indizio È un posto Un po' colorato E un po' no Un po' colorato Cioè non è tipo Un posto Come il letto Vedi Che il letto Quasi tutto azzurro Questo ha uno sprazzo Di colore Ma poco Lo so che non è un bel indizio Ma non so bravo Il bel indizio Beh è a tuo vantaggio Perché se ti do gli indizi Ti dico in pratica Dove sono È a tuo vantaggio Non sa per dare gli indizi È molto a tuo vantaggio Allora raga Qua secondo me Io adesso muoio Quindi Sputtato che mi metto Un altro spawn point Che almeno qua È più comodo Di dove ero Ma È andata abbastanza bene Che stai controllando Le tende Sono tutte di un colore Tranne poco poco Ah beh Poteva aver senso Sì In effetti Grazie Meno male che l'hai messo Dimmi che non muoio Ok Perfetto A quanto siamo? Quasi quattro minuti Devi dare l'ultimo indizio Sono in un posto Che non hai controllato Mai Cioè non hai mai guardato Dentro questo posto Ok È un indizio Carino Se ti dico Magari ci sei già passato Sai che hai guardato male Invece non hai mai controllato Qui Quindi dai Un bel indizio Cavolo Vai per esclusione Non è che ci vuole molto Beh E dai Beh Non lo so eh È confuso Tu hai detto Che non è un mobile Ad esempio Una cosa Che non è un mobile È il computer Quello l'avevo controllato Anch'io Ma non ci sono molti Nasconditi Ok Quattro minuti E quaranta Se non è il computer Fanno ridere I tuoi ragionamenti Secondo me Ho capito Ma non so come arrivarci Ok Forse devo diventare quello Enorme Ok Ok Torno Andando Piccolo Alla tazza No Non è la tazza Dai non perdere tempo È andata Eh Qua non ci sei Qua non c'è Va bene Eeeh Eeeh Lo devo dire Eh mi sa di sì Mi sa che vieni È il portadocumenti Steph Ti ho fatto anche prima Ma quello non è un mobile Era un bell'indizio Quindi anche il primo Un portadocumenti Quale Quello di giù È un portadocumenti Quello bianco Si Allora la cosa dei colori Cioè Ci sono le cosettine Ero sotto questa verde E sei morto Cioè Ero sotto questa verde Vedi Cioè raga Era colorato Ma non troppo Perché ci sono questi colori Ma è quasi tutto sul grigio Aveva senso Steph Congratulazioni a Fede Che ha vinto Non ci provare Di sicuro ha perso Nell'indizi Steph è stato molto più gentile Molto più gentile Cavolo Ti ho detto anche Non è un mobile Quando tu mi avevi detto Ti ho detto Io la prima volta Ti ho detto Guarda che è un mobile Ti ho detto No non è un mobile Quindi era un amico Io ti ho detto Non è un mobile È bianco Ti ho dato proprio Cinque posti Deve controllare Finché non l'hai capito Vabbè In ogni caso E ma adesso è stato scarciuto A darmi Gli indizi troppo Prima e l'ultimo episodio Di nascondino Estremo Perché con Fede Non fa Con te non fa Con Fede non fa Speriamo che il video Vi sia piaciuto E ci fermiamo così